Buongiorno, 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 buongiorno. E poi impariamo a prendere tutto e a dire no. Dopo impariamo a dire sì. Ma non si è toccato, forse a tutti, che dopo si serve sì di sì. Ma tanti volte non proprio ti è convinto, sincero. Se si serve sì, non sai, per ottenere la fietta, oppure per fare in modo che non si baruffi, ecco, e in pratica si tradisce stesso. E usasse a dire sì al ben difficile uno vuole dire no. Ma chi ha detto che quanto è dire no? Sì, direlo, assieme al cuore del mondo. Ho vinto un bel coraggio di dire no, di granchi in particolare, perché se si arriva a dire no, arriva a salvare noi stessi, che noi non possiamo essere sclami di chi ha. Allora, il Signore, dal Vangeli, ha detto che quello su si ha detto sempre di sì. Ma anche io si ha detto sì quanto sia sì e no quanto sia no, che nel mondo. Buona giornata e buona vita. Grazie a tutti.